Eccoci, tiki raga, kittiki raga, via! Oggi siamo su FIVA17, indovinate su cosa? Sto cazzo! Si sono ritirati! E' Vittoria a tavolino questa! E' Vittoria a tavolino ragazzi, una Vittoria a tavolino, ma non annulliamo il video perché adesso ne parliamo, ne partiamo un altro! Sì sì no, perché ragazzi voi dovete sapere, noi registriamo, succede, non succede niente, noi non registriamo, succede il degrado! Intanto è arrivato a livello 85, così a caso, cioè sta partita è servita per arrivare a livello 85 praticamente! 25? Come gli anni di Cristo? No, non diciamo queste cose nel video per piacere, per piacere non diciamo queste cose! Dai, cerca! Ah no, mi sa che devi cambiare le impostazioni! Ah ok! E' giurato capitano! E' giurato capitano! E' giurato capitano! E comunque è bello come inizio del video ragazzi, cioè devo dire... Sì, lo so come inizio! Un inizio spettacolare, no? Vai, cerchiamo una partita, dai! Tiki taga, via! Tiki taga, tiki taga! Comunque ragazzi, non siamo sulla seconda parte del cupo championship, siamo in un'altra propria modalità, stavolta siamo a pro club! Una pro club! Una pro club! Una pro club ignorante, dove ci partono gli scleri della madonna e qui gioca su qualsiasi! Lui controllerà tutta la squadra, quindi se vedete è una cagata, è colpa sua, non mia! Sto scherzando! Eh, bugia! Posso denunciare alla Lega Giudiziaria! No, alla Lega Giudiziaria, non di certe cose per piacere, perché sennò nei commenti ti mettono un insulto, vabbè che io li levo sul mio canale, quindi vabbè! Bla 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 bla! Siamo l'opposto fuori! Oddio! Le traverse che prendono al training, quello pre-partita! Tanto per capose, crasha di nuovo giù! Uh! Hanno il simbolo del Milan! Forza Milan! Oddio, questi non saltano! No, no, manco morto, ma tu stai male a due tipettini, stai scimmo a due tipettini! Vai, gioca, dai! Attenzione, parte la partita! Parte la partita! Mi chiami scorbo che sono in rosso! Eh, pure io, infatti pure io ero convinto che stavo giocando io, dicevo perché non mi controlla il PG? È incredibile, devono prendere la mano! Ah, no, pure la divisa del Milan si qua! Mi stimo! C'è il simbolo per andare! Eh, è vero, mi sa che non puoi mettere separato, simbolo divisa diverso! Dai, dai, cri! Ottima lettura! Dai, cri! Dai, cri! Aggressivo, cri! Dobbiamo fare una bella figura nel video, cri! Va bene, dobbiamo vincere? Sì, dobbiamo vincere! Oddio, guarda che t'ho dato! Guarda che t'ho dato, sono segni di picchio! Sono segni di picchio! Boom! Boom! Ragazzi, ragazzi, vi dico già da adesso, quando non racchiamo sul FIFA, facciamo schifo, se racchiamo, guarda qua che ballazione, al minute one, proprio, qua succede l'affetto contrario. Signore, cattissimi, qui ci fa quittano! Dici che qui, no? Oh! Rage quit! Rage quit prepotente! Rage quit prepotente! Due vittorie di fila nel video! Tutte e due col rage quit! Tutte e due col rage quit! Oddio! Ma che culo che è incredibile! L'aspetto è che posso livellare, credo, credo che posso livellare, wait, no, non posso ancora, saranno quattro punti, no, saranno quattro punti, quindi non puoi, vai, vai, vai! Adrida? Adrida? Adrida, 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 vai, vai su cosa, come ci chiamano l'Oligatana? Muoviti, muoviti, ti stai muovendo, ti stai muovendo! Sì, incoerente! Sì, incoerente! Una cosa svelta, che qua non c'è trippa per gatti, ma solamente i gatti per trippa, vai! No, no, sentite, ragazzi, leggete già, sì, sì, è incoerente! Allora, cerchiamo, sì, vai, cerca una partita! Torno subito! Torna subito, qui, raga! Torno subito! Comunque, ragazzi, da notare che nei video, cioè, su FIFA, l'ignoranza è sovrana, quindi, non vi stupite dalle cazzate che sentite! Attenzione, la classe del mio calciatore che non sa neanche fare la Veronica! Boom! Come non so fare la Veronica? Non lo fa, non lo fa, guarda! Andate con la Giulia, guarda qua! Sì, la Giulia! È la Veronica! La Laura! È in arrivo del life gratuito da una certa persona, vai! Passami! Dai! Cosa fai? No, 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 non lo fa, guarda, scusate, era tutto calcolato. Attenzione, ragazzi, cerchiamo di vincere. Cercheremo di vincere, ragazzi. RR! Chi è? Red Ribbon, Fiocco Rosso. abbiamo il suocco rosso Fondra per essere incognito per essere incognito ci sono di più dai uuuh incoerenti differenti devi notare il simbolo del nostro club quanto è brutto sembra quello del Madrid però tutto blu e nero devo cambiare il colore credo solo del simbolo però non è diviso mi dimentico sempre così nel verde non il rosso perché sopito te sei io il rosso dai lei vai la crisi sei tu che contro la squadra che fai qualcosa che schifo ma quel po' si corrono con i fagiani mi devo farci eh ve li fermi eh ma i ve li fermi i coglioni eh ve li fermi i coglioni eh ve li fermi i coglioni oh guarda che t'ho dato di nuovo da notare gli assist di io ragazzi da notare gli assist di io tu me tiri di io che vanno a cagare eh no l'avevo visto vai 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 ma stai silenzio tu guarda qua guarda qua dai qui dai qui ma cosa cos'hai fatto cosa stai fando mia palla no già tutto vai 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 cattivo non si può no 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 tu non sei convincente nei video devi essere più potente eh devi essere molto più potente guarda che ti do guarda che ti do guarda guarda che tu non li sei sfruttare tu non li sei sfruttare sei falso ma controlla la squadra hai modificato le mani si e perchè controlla la squadra ma che ne so perchè siamo stati sfigati ma lo da ma lo da ma lo da ma va che non controlla la squadra sono tre sono tre loro sono tre ho quattro ho quattro non lo so eh credo che non so anche di più ho in difesa mannaggia ah no 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 ok mi dice che non ho tre c'è uno che contro guarda adesso io cambio guarda che quello l'ha cambiato si è vero se riparte con la rimasta se l'alba dio a voi striscia triangola falso vabbè dai ci abbiamo provato eh si più o meno poi svolta no non il recupero possono ricominciare vai vai guardiamo le azioni intanto da sentire il nome malezze invece di menezze non mi piace cosa sta comprare si si menezze lo so invece di malezze ho sbagliato scusami 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 t'ho tradito oh firmati quando pronunci il mio nome vuoi che gira vuoi che gira vuoi che gira bravo attenzione eccezionale proprio l'uomo sbaglia tutto oh bestemmia no dai oddio un attimo la vista più bassa ragazzi penso che questa squadra abbia un grande potenziale io penso bene bene non hai giocato bene bene penso perché mi scordo io mi scordo sempre vai triangolo su di me ti prego grazie no perché ho saputo pure che la vor gioco mi ha fatto prima di fare triangolo ho già detto eh appunto no non so perché ho schiacciato triangolo ho abitato a giocare da solo devi capire gli affi facci gioco sempre da solo non così quindi un'auto intesa eh sì negli ultimi giorni però in generale che bastardo come si dice lui approfitta e provare fa calugna fa fa la calugna ti faccio fin in galera con accusa di calugnaggio oh in mezzo oh dio dovevi passarla lì non me l'ha passata è riuscita in calcio oh dio guarda che hanno visto le mie mani eh ti sto dicendo largo bravo tbb eh fallo comunque però là è fallo dio santo si provera fallo provera fallo no rigore no proprio punizione si oh no vai di cattiveria vai di cattiveria mamma mia qualcosa li ho fatto sto visto e te l'ho visto ma non ti schiena ma da oggi vabbè questo non mi la falla e porco non diciamo caponata attenzione ma va questo paratutto so gris ma perché era buono il tiro dio santo è stato proprio il portiere è vero ti guarda il video è vero che sono proprio il portiere dai dietro qui qui che ti è dato di nuovo bravo speravo di far arrivare la parola in mezzo all'aria così poi tu di piattone questo è un cross è un passaggio al portiere ma quello era un calcio piazzato ma smettete il grezzo ma quanto è il grezzo ragazzi io ma io l'ho fitto eh ha togliato il bravo ma perché è fuori gioco ma dai ma perché mi faccio cosa vuoi vedere ma vuoi che era fuori gioco a meno che non c'era una sulla fascia da notare che abbiamo giocato solo noi finora ragazzi loro in azione hanno fatto un gol questo è il riassunto di come solo la nostra giornata tipo che si fa pro club intanto ho dato una botta col piede contro una cazzo di sedia e mi fa male il pollicione adesso aia il pollicione il pollicione dai dai reagisci da me no ok sono bravo dietro è però è ma è appena creato il personaggio qui ho spesso sinistra vado a sinistra vai no no fai qualcosa dai scusate se il mio personaggio non è attivo vai però devi farlo prima addio eh no è perché volevo darlo a quello che c'è adesso ma non fa tiri buoni questo è un coglione guarda la linea giù a destra si carica pure quasi a metà eh ma si carica quasi a metà la linea devo tenere premuto eh porco eh si e poi viene la strato sfera la palla non ho capito perché il mio personaggio è un personaggio da assist man a non fare il grizzo non fare il grizzo non fare non fare il grizzo eh che si roda di picchio cribbio eh che cribbio dai allora allora springfield mannaggia tutto lei vai là vai ti fa il gol scriptato dai mia 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 a me 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 lo picchio fate finta a me a me a me a me oh dio è vero dimenticavo che tu non controlli no ma c'era lì l'indicatore rosse sul personaggio quindi lo stavi controllo andavo di continuare un nuovo picchio vai dai di cattiveria non entra non entra deve essere aggressivo devi essere aggressivo mannaggia non non ah ok non mi abbiamo marcia x premuto x premuto tdb guardalo eh no lui perché a lui ha fatto triangolo premuto con l'analogico puntato verso quello lì esterno però non l'ho passata perché un gioco di merda dai vai 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 mannaggia aiutami aspetta to' ho visto to' ho visto come te la senti come te la senti di osando e porca chita murt è pure neanche l'ho toccato del fallo ma serio ma sto scherzando a buco dai passata attività bravo bravo tirati ma che batteranno schifo grazie bimbo è un parisi importante questo bravo non è mai vinto ma va bene è più stelle è butcher è butcher è butcher è butcher è banale oddio ho lasciato alta la camera solo da notare che loro fanno i gol di merda loro fanno i gol di merda ne faccio il gol più seri balla in mezzo vai via 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 subito subito ferme nezza eh però vado ma hai visto come guarda qua cosa ti ho messo si ma sto stanco eh vai in mezzo oh non mi blocca mi sta bloccando vai 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 prova prova no orco orco porta la gonna vai 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 ma vi prende mi prende mi intercalari cosa cosa stai dindo oh poi di nuovo ma vaffanculo va devi passare con triangolo ma cosa eh poccato che è storto come la eh eh bisogna stare calmissimi perché qua gira di nuovo vedi che sei bravo con noi bellissimo bellissimo sei che sto cazzo di gol sono a gol di io gol di io gol di io gol di io che bravo guarda guarda è pure sbagliato in gol qui e poi gol di io mamma mia proprio a lui ma quittano ma quittano e cresce il video dai cazzo gol di Sam ragazzi gol di Sam gol di Sam bravo vai così vai così guarda guarda guardami ma troppo cosa oh meravolo sostanza stupida no non parli tu che tu sembri un cazzo di sembra una una vecchia che perché un bambino con un gatto malato vai vai uccidi uccidi non uso uccidi uccidi da notare da notare non togli la loro dal giorno uccidi mannaggia tecchi che stramorto con calma perché fai cosa di fretta mi fa con calma è che il punto no ma non abbiamo roma abbiamo roma di no spero non farlo fatti ci ho detto non lo batte subito no che chiacquina pordino xy esori xy largo xy lorgo xy lorgo oddio santissimo dal cielo trangolo tremalate no move pure bravo gira bravo dell'epice l due io e se tu le due e matisse dio ma solo dio non è un falso 2 a 1 vedi come si guarda versi nostri amici te sportivi tempi vai di nuovo largo e perché non si scatta di più è brutto questo picchio passami passi di frigo ma perché anche se mi passa di miseria ma cosa ma cosa c'è in bottiglia di un bradito in coma vigila che faccia la soglia del valore di una pottessa ferma oddio santissimo bravo vai che sei in gioco ma stai scherzando ma stai scherzando dov'era fuori gioco in culo ma cosa era fuori gioco scusa gioco si droga aiuti di sgame omigod omigod place don't let him scure the goal plaza thank you thank you you just stop e tim dirati che stai fanno largo 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 stai fanno non lo so non lo so più con calma guarda che finisce a giocare un coglione vedi quello che lo dice il video l'ha ammesso ragazzo avete pure sentito dai dai no no non ci facciamo un colgo alla fine per piacere ti prego concentrazione oh 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 non fa sti passaggi così eh con calma largo a me largo a me largo vabbè largo a me largo a me giù e sto a correre come corro che sono in fin di vita sta morendo il mio personaggio tra poco muore diviene un infarto ma non ce la faccio ma non ce la faccio ma non era ma non era allora il mio personaggio ormai è veramente un bradipo in coma vigile bella partita dai gg mi è piaciuta un gol ho fatto grande io va bene dai siamo abbiamo vinto abbiamo cioè siamo in promossi cioè in promossi siamo in promozione insomma ragazzi questo era tutto per oggi spero vi sia piaciuto questo video violenta su fifa e insomma ci sentiremo al prossimo video bella